Ciao, ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul canale. Primo video della settimana, un video di lettura culturale. In questo periodo ho letto tre libri, ovviamente mi sono piaciuti tutti, altrimenti non ve li mostrerei. Per chi fosse la prima volta che passasse di qui, non faccio delle recensioni perché non mi piace raccontare troppo dei libri. Quindi vi spoilerei tutto, ma così vi do dei piccoli pensieri, i miei piccoli pensieri su quello che mi ha colpito di questi libri. Allora, in questo periodo sono andata a ricercare dei libri che parlassero di profumi, romanzi molto leggeri, molto carini. E il primo che vi voglio presentare è questo, La piccola casa dei profumi perduti di Teresa Simone. Come sapete io i libri ultimamente li prendo solo in biblioteca perché non ho più posto dove metterli, a meno che sia proprio un libro particolare. Questi sono dei libri abbastanza leggeri, quindi una volta che li ho letti do la possibilità a qualcun altro di rileggerli. Allora, mi è piaciuto tantissimo. Come vi dicevo sto ricercando dei libri che parlano di profumi, come quando ero in fissa con la cucina cercavo dei libri, dei romanzi che parlassero di cucina e quant'altro. Cosa ci racconta questo libro? Vi leggo la copertina. Sono gli albori degli anni 40 e la giovane Nelly Voss ha appena iniziato a lavorare al 4711, uno dei più rinomati produttori di profumi di Colonia. Nelly dimostra da subito una sensibilità straordinaria per le fragranze e si appassiona così tanto al lavoro da scordare quasi che il mondo è in guerra e c'è un conflitto terribile alle porte della Germania. Quell'impiego è anche una cura per il suo cuore, lacerato da un amore impossibile. Nelly sa bene che non potrà mai avere l'uomo di cui è perdutamente innamorata, per questo dedica tutta se stessa ai profumi, provando a dimenticare. Giorni nostri. Dopo la fine della sua relazione, Liv ha aperto un piccolo negozio di profumi nel caratteristico quartiere di Erenfield a Colonia. Un giorno una misteriosa donna dai capelli bianchi irrompe nella sua tranquilla routine. L'anziana signora la scambia per un'altra persona, chiamandola con un nome che a Liv non dice nulla e poi inspiegabilmente la insulta. Chi è quella donna e che cosa la lega a Liv? Allora, come avete capito, è un libro che è impostato su due tempi diversi. Una parte racconta la storia di Nelly. Nelly è una ragazza giovane che lavora in questa azienda che è famosissima e la conosciamo tutti. Poi, per una casualità, il tecnico di laboratorio, il naso profumiere di questa azienda, si accorge che lei ha un talento particolare e quindi proprio nel momento in cui la guerra scoppia, dall'amministrazione la passa al suo laboratorio. Tra i due si instaura un rapporto di amicizia molto profondo e che sfocerà poi per uno dei due in amore, non per Nelly. Nelly è innamorata di un sacerdote, il sacerdote della sua parrocchia, ma purtroppo questo amore non avrà seguito. Dopo lo scoppio della guerra, Nelly incinta, ovviamente di questo sacerdote, scappa con il naso profumiere e fanno una vita insieme, ma non vi racconto di più. Ai giorni nostri però troviamo Liv. Liv che è una giovane ragazza con un bambino che si è appena separata dal suo compagno e viene ad abitare in questa piccola cittadina di Colonia perché una prozia li lascia in eredità, una piccola eredità e in questa eredità c'è però una clausola che lei riesca ad aprire il suo negozio di profumeria proprio e solo in quella città. Le due ragazze hanno ovviamente un collegamento che non vi svelerò. La storia è veramente bella, interessante, anche dolorosa perché seppur romanzata ci racconta di come sia stata devastata Colonia nella seconda guerra mondiale e racconta però di questo amore che non è finito nel miglior modo possibile ma c'è un legame che è questo bambino che nasce da Nelly e che è il collegamento tra Nelly e Liv. Una storia bella, dolce, a tratti magari anche un po' drammatica e dove Liv apre questo negozio di profumeria, una profumeria di nicchia, lei appunto confeziona i profumi alle clienti che vanno nel suo negozio però ci sono proprio dei piccoli incidenti che li fanno capire che lì non è ben voluta. Non è ben voluta da questa donna che quando la incontra per la prima volta la insulta e la chiama con un nome che Liv non conosce e da lì poi partirà tutta la storia e io non vi svelerò niente. Un libro davvero molto molto carino, si legge velocemente e nulla, è improntato sui profumi, in questo momento appunto sono attratta dai profumi e però racconta anche un po' insomma un po' della storia della seconda guerra mondiale per quanto riguarda appunto la città di Colonia e del suo forte momento di distruzione insomma. Bello bello, finisce bene, è un bel libro che vi consiglio. Il secondo libro che io ho trovato in biblioteca sempre sui profumi ma non è quello che io pensavo perché? Perché i libri li scelgo dalla copertina e ovviamente il titolo è Profumi e quindi io mi sono detta perfetto. Lo prendo e lo leggo. Il libro in questione è questo che è scritto da, adesso ve lo dico perché lì è ricoperto, è Filippe Claudel. Filippe Claudel è nato nel 1962 in Lorena, affermato scrittore e sceneggiatore e nel 2003 ha raggiunto il successo internazionale con Le anime grigie, sempre edito da Ponte delle Grazie nel 2004. E poi ha scritto anche altri romanzi. Ma di cosa parla? Questo è un gioiello, non è un libro, è un piccolo gioiellino che vi consiglio di leggere perché sono dei capitoletti molto molto corti e sono anche tanti. Adesso vediamo se riusciamo a capire quanti sono e vi dico di cosa parla. È possibile raccontare una vita, la propria, attraverso gli odori che ne hanno caratterizzato i momenti salienti destinati a imprimersi nella memoria? Per Filippe Claudel non è solo possibile, è una realtà a tutti gli effetti che si snoda qui tra le pagine di questo piccolo gioiello di carta e inchiostro. Il suo libro più recente, Profumi, vero e proprio puzzle olfattivo, composto di 63 tessere rigorosamente in ordine alfabetico. Profumi rievoca un mondo ormai perduto fatto di gente semplice, indissolubilmente legato all'infanzia, all'adolescenza e alla giovinezza del suo autore. Tra i boschi di conifere, i campi e i fiumi della Lorena qui descritti tornano a vibrare attraverso la rievocazione sentimenti ed emozioni che descritti con la libertà poetica e il tocco leggero del grande scrittore che sa stuzzicarne i sensi di ognuno trascendono le dimensioni più strettamente personali per approdare a un'esperienza universale. Allora, sono dei piccoli, proprio piccoli piccoli capitoli di una pagina, due pagine e racconta attraverso questo ordine alfabetico dove troviamo la bete, la caccia, l'ambicco, la caronia, la crema solare, il letame, l'innamoramento, l'ombrellifere, gli ortaggi, la palestra, i pisciatoi, la piscina. Insomma, ogni capitolo di questo gioiello racconta attraverso la voce narrante di questo poeta, io lo chiamerei perché non è neanche uno scrittore, in questo libro è un poeta. Racconta le emozioni, i ricordi che i profumi di qualsiasi tipo, sia dal cibo che le puzze che possiamo trovare appunto nel mondo, lo riportano all'infanzia, a qualcosa di bello, a qualcosa di così profondo da essere emozionante. Un libro che mi ha emozionato in ogni pagina e in ogni capitolo, davvero un gioiello e questo penso che lo comprerò perché è davvero un libro da avere e ogni tanto da rileggerne un capitolino. Volevo vediamo. Non saprei bene cosa... Allora, vi leggo un pezzettino di sapone. Cubo perfetto, grosso dente di animale staccatosi da una mandibola scomparsa e che lascia sotto le ungue che lo graffiano un po' del suo smalto e della sua polpa. Inafferrabile, scivoloso, sfuggente nell'acqua del lavatoio comunale che grazie a lui ha già assunto una colorazione lattea. Le donne parlano, sono vecchie, con capelli gialli e grigi raccolti a crocchia. Vecchie come tutte le donne quando si è un bambino, ma ancora più vecchie quelle lì, che sono nate all'inizio del secolo, il ventesimo, e hanno stentato la vita nella pregnanza sanguinosa delle guerre. Il posto odora di bagno pubblico, dell'indore delle bolle trasparenti che talora nascono sotto i colpi di mestola e che io faccio subito scoppiare. Infatti io sono in acqua, pesciolino umano, sotto lo sguardo delle lavandaie che mi schizzano. Le lenzuola si torcono fra le loro mani. Le donne si tergono il sudore dalla fronte. Ridono, ci calano, schiamazzano senza per questo rallentare il lavoro. Io non so notare e poi continua. Comunque è davvero una cosa meravigliosa, bellissimo, mi è piaciuto tantissimo e questo ve lo consiglio davvero, perché leggendone uno o due capitoletti a sera mi ha dato quella sensazione, mi ha fatto ritornare ancora bambina, perché tante cose accomunano i profumi che lo scrittore ricorda con quello che ricordavo io e come penso quello che probabilmente tanti di voi ricordano. Un bellissimo estratto di infanzia, di vita, di emozioni, di sentimenti, veramente veramente stupendo. E questo è il libro Profumi di Philippe Clodel, Ponte delle Grazie. Ultimo libro di cui vi voglio parlare è il libro che ho letto al gruppo di lettura di Marcella Serrano, Il giardino di Amelia. Allora io non avevo scelto questo libro e mi sono immaginata tutt'altro. Mi è piaciuto? Mi chiederete. Sì, mi è piaciuto, ma, ma c'è un ma. Leggendo la breve presentazione del libro mi ero immaginata tutt'altro e adesso ve la leggo. Cile, anni 80, sotto la dittatura del generale Pinocchè. Un giovane sorversivo Miguel Flores, sospettato di svolgere attività rivoluzionaria, viene mandato al confino in un paese nei pressi di una grande tenuta, la novena, di proprietà di una ricca latifondista Amelia. Tra i due, dopo un'iniziale diffidenza, nasce un profondo legame, arricchito dal gusto per la lettura. Amelia è una signora avanti negli anni, vedova con figli, molto colta, che ha molto viaggiato ed è stata traduttrice. La sua mentore è stata una cugina, Sibyl, che abita a Londra e lavora in una grande casa editrice. La vita scorre tranquilla, Amelia e Miguel conversano, meditano sul loro presente e sulla vita, sui libri. Il legame si fa sempre più stretto, lui va a vivere da lei finché in una notte arrivano i militari a dargli la caccia, perché sono state scoperte delle armi sepolte nella tenuta. Miguel riesce a fuggire, Amelia invece viene catturata, torturata e solo quando è riconosciuta estranea i fatti viene rilasciata. In Europa rimane ossessionato dai ricordi e tramite Sibyl viene a sapere cosa è successo ad Amelia dopo la sua fuga. Gettato nel più totale sconforto, capisce che l'unica chiave per superare i suoi sensi di colpa e tornare in Cile è affrontare il proprio passato. Allora, mi è piaciuto tantissimo questo libro per il rapporto che si instaura tra queste due persone, che è di amicizia, di rispetto, all'inizio un po' di diffidenza e poi alla fine sembra si trasformi in amore o comunque in una relazione amorosa. Ma la cosa più bella sono veramente i dialoghi che ci sono tra Amelia e tra Miguel. Si ritrova una curiosità in questo ragazzo che vuol sapere e all'inizio tratta anche con superiorità questa Amelia perché lei è una latifondista ed è quindi una persona che lui non apprezza proprio per quello che sta succedendo in Cile. Ma poi capisce che Amelia appunto è una donna intelligente, è una donna colta, è una donna che ha avuto delle sofferenze soprattutto per la vedovanza e quindi c'è appunto questo rapporto molto intenso tra di lui, soprattutto un rapporto verbale molto molto intenso di conoscenza e di scambio di opinioni e di pensieri. Poi appunto succede che una notte arrivano i militari e quindi lui scappa ed Amelia invece viene presa e viene torturata. Io mi sono immaginata più che altro prima di leggerlo quando ho proprio letto soltanto la trama che ci fosse qualcosa di più profondo, di più analitico su quello che era la situazione in Cile in quel momento con la dittatura e invece questa cosa è trattata in maniera veramente molto molto leggera o comunque molto superficiale. e quindi sono andata dritta al gruppo di lettura dicendo questi due pensieri che appunto mi erano venuti dopo averlo letto e invece ascoltando il pensiero di tutte le altre persone che lo avevano letto e che alcuni avevano un pensiero positivo, altri negativo, ho capito che ancora una volta che i libri vengono letti da ogni persona in maniera diversa e ogni persona, che bello, coglie un significato diverso e mi hanno fatto anche ragionare che probabilmente io mi aspettavo tutt'altro perché mi ero incentrata sul fatto di capire qualcosina di più, certo non da un romanzo ma comunque che si andasse un po' più a fondo sul perché lui fosse fuggito e comunque che ruolo avesse in questa azione politica che l'avevano poi mandata al confine o che lo avevano mandato al confine, insomma mi aspettavo un libro un po' più incentrato sulla storia e non più sui sentimenti e invece parlando appunto con gli altri amici del gruppo di lettura mi sono accorta che probabilmente questa scelta della scrittrice, che poi abbiamo saputo che la novena comunque è il luogo in cui lei abita e che questa storia di aver ospitato un fuggitivo era successa a una sua parente, a una nonna o a una bisnonna, insomma, quindi c'è anche qualcosa di suo, ovviamente romanzato, ma il tema principale è il tema del perdono che c'è dalla parte di Miguel che appunto ritorna poi in Cile e cerca di capire quello che è successo e poi avrà un nuovo modo di affrontare la vita e il libro comunque si conclude in un modo abbastanza inaspettato, davvero molto molto bello, mi è piaciuto il modo di scrivere di Marcela, io non avevo mai letto nulla e sicuramente andrò a ricercare i primi libri scritti da questa scrittrice dove mi hanno detto che invece la parte diciamo del racconto di come la dittatura, la politica si sia sviluppata in quel periodo è un po' più intenso e descrittivo e quindi andrò a cercare anche quei libri, quindi Marcela Serrano, Il giardino di Amelia e questo mi ha fatto veramente capire che è bello poter scambiare delle opinioni e i pensieri su un libro letto perché a tutti noi il libro e le pagine regalano delle emozioni, dei sentimenti e dei pensieri diversi e se poi si riesce comunque a scambiarsi i pareri diciamo ci si fa un'idea più completa, più grande, più ricca, più vera forse perché è un libro a varie sfaccettature che magari ognuno di noi coglie in maniera diversa. Bene, io vi ho raccontato i tre libri che ho letto, vi do appuntamento al prossimo video, vi auguro una buona settimana e vi ringrazio per essere arrivati fino a qui, un bacione e a presto, grazie!